Uronia Jet, Vincenzo D'Alessandro Junior, Uru Bamba Thor, Mario Minopoli Junior, una BG King, Aniello Scala, Unetta Di Casei, Antonio Storti, una Di Maggio Enrico Bellei, Udette Jet, Dario Battistini, Wendy Stift, Roberto Vecchione. In seconda fila, Uru Cuyana, Davide Di Stefano, Umaticaia, Alessandro, Gocciadoro. Parte piano Udette Jet, parte piano una Di Maggio, anzi, deve probabilmente fare i conti con qualche problemino. Si avvantaggiano Unetta Di Casei e a largo Wendy Stift, all'interno rientra però Uru Bamba Thor. Uru Bamba Thor allo steccato con a largo Unetta, in terza Wendy, poi Uronia su una BG King, ancora Uru Cuyana, Udette Jet, una Di Maggio con a largo Umaticaia. Nuovo affondo di Wendy Stift su Uru Bamba Thor. 28 e 8 i primi 400, Wendy che passa, Uru Bamba di rincalzo davanti a Uronia Jet, resta scoperta a largo Unetta Di Casei, vieni via dal fondo Umaticaia. Intanto Wendy completa il 600 in 43 e 7, arriva Umaticaia. La segue a largo Una Di Maggio, intanto cavalli che vanno al passaggio di metà gara in 59 e 9, con Wendy al comando a largo Umaticaia, ancora da Uru Bamba a largo Una Di Maggio, Umaticaia, quando vuole si libera di Wendy Stift. Primo chilometro 1.14.6, Umaticaia, poi Wendy Stift, all'esterno Una Di Maggio, prova più indietro in terza Uru Cuyana, sbaglia Wendy Stift. E stiamo sul finire della curva conclusiva con Umaticaia al comando, davanti a Una Di Maggio, poi Uru Cuyana. Ancora Uru Bamba, Thor a largo, Uronia Jet, Umaticaia in vantaggio. Umaticaia su Una Di Maggio e Uru Cuyana. Umaticaia, che viene a concludere facile davanti a Una Di Maggio, poi Uru Cuyana al terzo. Per il quarto sono in linea Uronia Jet e Udet Jet. Rivediamola questa retta di arrivo. Umaticaia in vantaggio, Una Di Maggio che insegue. Umaticaia ha vinto veramente facile. Anche qui Alessandro Gocciadoro che impone questa femmina da SGS Foto e Naomi nel modo più facile. 1,59, 14,5 la media, decimo più, decimo meno. Il secondo per Una Di Maggio. Poi andremo a rivedere anche il filmato che è successo a Una Di Maggio in partenza. Ma deve essere successo qualcosa. Il terzo per Uru Cuyana, scorrono le immagini. Poi c'è Wendy Stift. E poi ci sono in linea Uronia Jet e Udet Jet.